Sfrattare dai palazzi romani una classe di governo ritenuta illegittima da una sentenza della Suprema Corte Costituzionale, che vedeva tra i giudici firmatari anche un ermellino paradossalmente diventato poi capo dello Stato. È l'obiettivo del nascente movimento Liberazione Italia, che cerca di fare breccia anche in Calabria, dove ha parlato il suo fondatore leader, un generale dei carabinieri il quale pretende, a nome del popolo sovrano, l'applicazione di quella sentenza dell'ormai lontano 2014. Alcune migliaia di cittadini si sono portati a Piazza Montecitorio e per la prima volta nella storia della Repubblica hanno consegnato un atto di intimazione e di difida al Capo dello Stato per sciogliere le camere. Un fatto straordinario mai accaduto nella storia della Repubblica? Mai il popolo ha detto al Capo dello Stato tu devi sciogliere le camere? D'altrondo lo può fare perché il popolo è sovrano. Il Capo dello Stato è un impiegato del popolo e quindi fa bene il popolo sovrano a consegnare questo atto. Perché il popolo ha detto al Capo dello Stato intervieni e sciogli? Perché il Parlamento, ahimè, da tre anni e mezzo è abusivo ed è legittimato. C'è una sentenza della Corte Costituzionale che ha detto in maniera chiara e tonda che loro nel 2014 sono stati eletti con una legge che era anticostituzionale. Anticostituzionale è la più grande macchia per una legge. Cosa doveva fare Napolitano una volta che è stata emanata questa sentenza? È vero che il Parlamento ha detto però potete rimanere, ma non per tre anni e mezzo. Questa è la grave pecca. Potevano rimanere un anno, si faceva una bella legge elettorale, rinnovavano le camere e poi potevano fare quello che volevano. Invece sono rimasti. Hanno fatto la Jobs Act, hanno tentato di cambiare la Costituzione e tutto il resto. Ma queste sono attività di un Parlamento del tutto legittimo, non di un Parlamento che sta con un piede fuori e un piede dentro. Voi capite che è una grave ingiuria all'aspetto giuridico. E mi meraviglio che la magistratura, le forze armate e le forze dell'ordine non siano intervenute per far rispettare lo Stato di diritto. Bene, noi abbiamo consegnato questo atto. Abbiamo detto al commissario che ci stava lì ad ascoltare, il rappresentante vero dello Stato, il commissario rappresentante vero dello Stato, noi torneremo fra 30 giorni. Il 10 ottobre torniamo. Torniamo lì e chiederemo al capo dello Stato cosa hai fatto nel frattempo. Perché è il popolo sovrano che ti dice di fare queste cose. Se il popolo sovrano sarà numerosissimo, saranno centinaia di migliaia di persone, un milione di persone più, in quel momento le autorità politiche capiranno che è finito il loro tempo. Se ne debbono andare. Perché è terminato il loro tempo. Se il popolo non va perché prezza di a un certo punto di vivacchiare in questo sistema che è morto, bene, il popolo se ne assume tutte le responsabilità. Perché quelli lì andranno dritti per la loro strada. Stanno già preparando il Rosatellum che li porterà a farli governare per altri 20 anni e ad ammazzare un'Italia in cui si sta facendo un terribile esperimento, quello di togliere gli italiani e di mettere gli altri. O l'hanno capito gli italiani che li stanno mettendo da parte perché arriveranno gli altri e quindi diranno la terra italiana è nostra e guai a chi ce la tocca e batteranno i pugni sul tavolo. Oppure sono dei morti, dei cadaveri. E quando loro reagiranno, ritornaranno ad essere quel popolo italiano, fiero e orgoglioso. perché migliaia di anni hanno fatto tante belle cose per tutto il mondo a iniziare dall'ordinamento giuridico. Noi siamo un grande popolo, cari italiani, e non possiamo permettere ai scellerati che continuano a rimanere al potere a distruggere il nostro poese. E voi mi potete fare una domanda come mai un generale dei Carabinieri si sta mettendo avanti. Ma scusate signori, ma se non si fa avanti un generale dei Carabinieri chi si deve portare avanti. Io per 42 anni ho difeso questo paese con lealtà e fedeltà. I Carabinieri, ricordatevi, hanno una lunga storia e la voglio ricordare, sono nati nel 1814, prima ancora dello Stato italiano, che venisse che lo Stato italiano si unisse. I Carabinieri sono sempre stato la polizia dello Stato ordinamento, mai dello Stato di regime. È morta la monarchia, è morto il fascismo, ma i Carabinieri sono rimasti sempre Carabinieri. Non hanno mai combiato né fisonomia né ordinamento, sono sempre stati legati allo Stato e al popolo. Loro vivono con il popolo, loro vivono in mezzo al popolo. Le stazioni Carabinieri stanno in mezzo al popolo e loro vivono le sofferenze, le gioie del popolo. Quindi chi, se non un generale dei Carabinieri, doveva fare un passo di questo genere, vi posso garantire, se quel giorno ci saranno centinaia e milioni di persone a Roma, i poliziotti e i Carabinieri. Quella volta non si toglieranno solamente il casco, come hanno fatto nel 2013. Questa volta si affiancheranno a noi, perché stanno capendo e hanno capito che stanno salvando il popolo italiano e lo Stato italiano. Vittorio Carlo Stella, allora che cos'è questo Movimento Liberazione Italia? Il Movimento Liberazione Italia nasce effettivamente già, come la parola dice, Liberazione Italia, che vogliamo effettivamente liberare l'Italia da una serie di vicissitudine che stanno succedendo in Italia. Pertanto il Movimento Liberazione Italia è stato costituito, fondato dal generale Antonio Pappalardo e praticamente sta facendo un piano di organizzazione a livello nazionale affinché si crei proprio uno Stato federale, dividendo l'Italia in sei Stati autonomi. Pertanto quello che noi stiamo combattendo adesso è quello di farli uscire fuori da questo Parlamento, perché dal 2014, di gennaio 2014 ad oggi, sono passati tre anni e mezzo mettendosi in tasca che ha la bellezza di un miliardo e quattrocento mila euro in tasca, abusivamente. Come fare per aderire, per avere informazioni a livello catanzarese, a livello calabrese sul Movimento? Benissimo, noi su Catanzaro stiamo nascendo adesso, tant'è vero abbiamo un incontro con il generale Antonio Pappalardo, dove chiederemo appunto le adizioni ai cittadini di Catanzaro per sostenerci alla nostra iniziativa. Andate nelle riunioni di questi signori, fate l'arretata, le metà li mettete in galera perché sono tutti madri.